come va bene bene è la settima volta che dici bene da dopo la partita non avresti un'altra parola stronzo eccone un'altra era meglio bene senti ora dimmi una cosa sola perché mi hai fatto mettere tutta in ghigli beh prima di tutto per intonarti all'ambiente no voglio dire che che se dovevi dire a tutti che sono una puttana perché non mi hai fatto i miei vestiti ok perché con i miei vestiti quando qualcuno come quello stacchi mi si avvicina lo sistemo io sono preparata mi spiace tanto non sono affatto contento di stacchi per quello che può aver detto o fatto ma è il mio avvocato e lo conosco da dieci anni vedeva che fosse una specie di spia industriale un paranoico sei il mio ruffiano credi di potermi passare ai tuoi amici non sono il tuo giocattolo no non sei il mio giocattolo so che non sei il mio giocattolo vivian sto parlando con te torna qui odio puntualizzare l'ovvio ma sei di fatto una puttana e sei una mia dipendente io non sono roba tua ok dico io chi dico quanto dico chi io rifiuto di passare gli altri tre giorni a litigare ti ho già detto che mi dispiace chiuso l'incidente non ti avessi mai conosciuto non fossi mai salita sulla tua vacca macchina neanche avessi avuto da scegliere tra tante migliori alternative non c'è mai stato nessuno che mi ha fatto sentire tanto in basso come te oggi abbi pazienza mi riesce difficile a crederci dove vai voglio i miei soldi voglio andare via da qui oggi abbi pazienza mi ha fatto sentire tanto in basso come te torna la tua vacca macchina neanche avessi avuto da qui dai mi dispiace io non ero preparato a rispondere a domande su di noi è stato stupido e crudele non volevo non voglio che te ne vada finirai la settimana perché ti ho visto parlare con david mors non mi è piaciuto stavamo solo parlando non mi è piaciuto giù giù mi hai ferita sì non farlo più addio Grazie a tutti.